Ciao a tutti e bentornati in Cucina Coragnese Oggi prepareremo delle gustosissime patatine di cavolo nero Sì, avete capito proprio bene delle patatine Un'idea alternativa alle classiche patatine e anche più salutari Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochi, quelli giusti Partendo dal cavolo nero, ci sono 200 grammi Ci serviranno 15 grammi di semi di sesamo bianco Potete scegliere anche i semi di sesamo tostati Io per questa ricetta ho scelto quelli semplicissimi, bianchi Ci serviranno 15 grammi di semi di lino 6-7 cucchiai di olio extravergine di oliva, mi raccomando sempre quello buono Sale e pepe Preriscaldate il forno a 180 gradi E mettiamoci subito a cucinare che in 10 minuti abbiamo pronto l'aperitivo Pulire il cavolo toscano è veramente semplicissimo Per questa ricetta ho scelto di comprare, di acquistare le cime Lasciando per questa volta le parti più esterne per la ribollita, sempre toscana Si parte in questo modo, le foglie che hanno questo torsolo più duro e più spesso Va eliminato perché altrimenti poi in cottura non si cuoce Si rischiano di bruciare le foglie e naturalmente il torsolo rimanere duro e crudo Si fa in questo modo, si gira la foglia, si tiene saltamente entrambi i lati e si tira E questa sarà la foglia che ci servirà Naturalmente invece come vedete le foglioline quelle più tenere Ho lasciato anche la parte coriacea attaccata Io finisco di fare queste, nel frattempo il forno si per riscalda e poi abbiamo finito Queste all'interno più tenere, io personalmente le lascio proprio così Mi sono procurata anche una teglia ricoperta di carta da forno Queste le lascio un attimo da parte Dobbiamo andare a mescolare insieme all'olio i semi di lino, i semi di sesamo, sale e infine pepe nero Io mescolo tutto direttamente con il pennello che utilizzerò per spennellare le foglie E ora Prendiamo ogni singola foglia, spennelliamo leggermente Con il nostro composto E la mettiamo sulla carta forno Bisogna fare così per tutte le foglie Arramatevi un po' di pazienza Ma il risultato, vi assicuro, buonissimo Io finisco di prepararle Il primo vassoio è pronto per andare in forno Il mio forno è già caldo Cuociono per 10-15 minuti Mi raccomando, devono diventare croccanti, non bruciacchiate E poi, il gioco è fatto In 10 minuti esatti, le chips di cavolo nero sono pronte per essere gustate Facile, veloce, deliziosa questa ricetta, ve lo assicuro Io ne ho già assaggiata qualcun'altra Ma ne voglio rubare un'altra Sentite come sono croccanti Io vado a finirle Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta Ci vediamo domenica prossima Inviaci richiesti e suggerimenti a www.cucinaconagnese.it Oppure se vuoi Visita il sito www.cucinaconagnese.it